Una befana solidale verso i più sfortunati è l'idea lanciata dall'Azienda per gli Studi Universitari di Teramo. Nella mensa dell'Ateneo Teramano, gli studenti dell'Università, in collaborazione con la cooperativa sociale Blue Line, hanno cucinato e servito un pranzo delizioso a chi si trova in difficili condizioni economiche. L'invito è stato raccolto da tante associazioni di volontariato che operano sul territorio e che hanno veicolato il messaggio di dono degli universitari ai loro assistiti. Il Consiglio d'Amministrazione già da molto tempo si è dedicato alle attività sociali e alle attività solidali. Credo sia un esempio anche per gli studenti dell'Università. Vogliamo far vedere come la vita universitaria non sia soltanto libri, testi e lezioni. E quindi questa iniziativa in realtà segue altre iniziative analoghe. La mensa universitaria è stata data in gestione ad una cooperativa sociale che include detenuti e persone portatrici di disabilità. Sempre il Consiglio d'Amministrazione ha deliberato di attivare una mensa solidale in collaborazione con il Comune e con l'Università di Teramo. E quindi questa iniziativa si inserisce in questo filone, in questa logica solidale appunto. Hanno risposto tante persone a questa iniziativa? Sì, sì. Parecchie persone in città in realtà hanno, credo, anche necessità, bisogno. Perché questa è la vera riflessione che ci dovremmo porre. Tante persone hanno la necessità di avvicinarsi a dei pasti non consumati dagli studenti o momenti di solidarietà che comunque testimoniano sofferenza sociale diffusa.